Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti a scambiarsi le promesse nuziali in una cerimonia intima e romantica che si terrà domani a Forte dei Marmi La coppia, che ha vissuto una fiabesca storia d'amore dopo essersi incontrata durante il reality show Grande Fratello Vip, ha deciso di anticipare la data del loro matrimonio, inizialmente previsto per ottobre, a causa delle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Eleonora Giorgi sorprende Clizia e Paolo. Ecco il regalo emozionante prematrimonio L'emozione è palpabile e l'atmosfera si è fatta ancora più speciale grazie a un gesto molto toccante da parte di Eleonora Giorgi. A sorpresa, ha fatto dono a Clizia di un anello prezioso, simbolo di protezione e affetto, come rivelato dalla futura sposa tramite le sue Instagram stories. L'anello, descritto come un regalo del, iconica suocera, rappresenta un vero e proprio segno di benedizione e supporto per il nuovo capitolo che Clizia sta per iniziare con Paolo. Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro al grande giorno. Il regalo toccante di Eleonora Giorgi prima del matrimonio. I preparativi per il grande giorno sono ormai completati. La cerimonia si svolgerà sulla pittoresca spiaggia di Forte dei Marmi. E sarà seguita da un elegante ricevimento al Beach Club Maito, uno degli ambienti più raffinati della zona. Gli ospiti, tra cui figure note dello spettacolo, saranno accolti con un aperitivo sulla spiaggia e poi deliziati con una cena a base di pesce, sotto un cielo stellato. In termini di estetica, Clizia ha optato per un look nuziale molto naturale, evitando trucchi pesanti come contouring ed eyeliner, per esaltare la sua bellezza naturale senza artifici. Il dettaglio dell'abito da sposa rimane avvolto nel mistero fino al giorno delle nozze, aumentando l'attesa e l'entusiasmo tra gli invitati e i fan della coppia. Questo matrimonio non è solo un'unione tra due persone, ma anche la celebrazione di famiglie e amicizie, evidenziata dall'incoraggiante gesto di Eleonora Giorgi e dall'affetto che lega tutti i partecipanti a questo lieto evento. Con ogni dettaglio curato alla perfezione, il matrimonio di Clizia e Paolo promette di essere un evento indimenticabile che sigilla un amore nato sotto i riflettori ma cresciuto e maturato nella vita reale.